Sono Francesco Moser, per contrastare gli acciacchi del tempo ho scelto Amel Medical. Torniamo con la testa tra le nuvole, nuvole che continuano a coinvolgere il territorio portando ulteriore instabilità. In particolare sui settori montani nel pomeriggio potrebbero verificarsi i rovesci sparsi. Come si presenterà la ventilazione sarà moderata nord-est. Le temperature risulteranno in ulteriore lieve calo soprattutto nei valori minimi. In quota il clima sarà freddo con valori al di sotto dei 10 gradi sopra i 1500 metri. Ed è tutto, una buona domenica a voi. Sono Francesco Moser, per contrastare gli acciacchi del tempo ho scelto Amel Medical.